qui abbiamo il replay di una mia vittoria in match race contro il numero 23 del mondo quindi abbastanza un evento sono nuovo dei match race solo da un mesetto che faccio match racing con il gioco virtual e vs k5 che di legate virtuali praticamente tipo pop america insomma questo è match race andiamo a vedere questo replay come comincia siamo nel prestato io adesso l'ho un po' velocizzata e non è la velocità naturale questa questa velocizzata qui sono entrato nella zona lui sta la moda adesso comparirà tra lo suo schermo tra un po' eccolo tra un po' sto cercando di conquistare la parte destra lui mi blocca qui becco quasi una penalità ecco qui ma riesco a scaparmela schermaglie si apre un varco mi infilo sotto lui insegue ma riesco a prendere la parte destra andiamo verso lo start mancano pochi secondi una trentina lui cerca di spingermi ecco qui cerca di darmi penalità ma io lo evito qui siamo partiti siamo partiti mure a destra una dritta si trova in leggero svantaggio lui in questa posizione perché tra un po sarà costretto a virare perché lo copro col vento infatti lui dire ma io subito lo ricopro andiamo adesso mure a sinistra ancora così un po' con lui mi andrò a mure a dritta anch'io mure a dritta lui ritorna subito mure a sinistra io proseguo per convento di favorevole poi però becco qui un bel salto a sinistra del vento e quindi mi avvantaggio abbastanza su questo nuovo salto lui sta più lontano la mia destra ma ritorna ritorna vedete io ricontro viro e qui stiamo andando alla prima boh a bollina non ci avviciniamo sono ancora qui in vantaggio qui siamo alla boh a dove comincia la poppa andiamo via di poppa lui sta molto vicino sui 3 4 3 4 secondi qui mantengo la diamo mure mure a sinistra la posizione abbattuta contro abbattuta perché lui mi viene qua tra un po ci avviciniamo al cancello dove io prenderò la parte sinistra e lui sarà costretto a prendere la parte opposta mirata io continuano andare molto a dritta perché il vento e sinistra in questo momento lui è favorevole lui sta dall'altra parte ma il vento gli butta dalla parte sua ci sarà tra un po un primo salto il primo salto divento a destra io mi butterò subito per cercare di coprire lo svantaggio infatti arriviamo all'incrocio proprio quasi quasi radenti sono ancora davanti sono ancora davanti ma lui praticamente stringendo mi può dare penalità allora io me ne vado lui torna da in questo momento me la sto vedendo abbastanza male perché lui ecco comunque adesso di nuovo incrocio mi rimette sto di nuovo in posizione sto avanti ma lui stringendo potrebbe darmi penne in posizione infatti tra un po proverà a stringere eccolo io evito la penalità siamo al limite quasi ci fermiamo poi ripartiamo una volta fa questo scherzo ma lo rifarà tra un po di provare a darmi penalità farmi girare ma io resisterò ecco qui ancora mi ci fermiamo poi ripartiamo ripartiamo siamo ormai in direttiva della sera ball della body che inizia l'ultima ultima poppa ultima poppa il vento butta qui è un vento sinistra quindi il mure a sinistra qui sono stato un po fortunato continuo riesco a mantenere il suo ritorno gli do la parte dove dalla quale non mi può superare dalla quale non sono coperto dal vento qui resiste il vento si mantiene tutta la poppa tutta la poppa al vento si mantiene a sinistra quindi io continuo sempre dritto e qui c'è un momento in cui guadagno abbastanza nettamente qui sto guadagnando su di lui infatti ha sparito pure dallo schermo semplicemente andando dritto tra un po ci sarà l'ultima abbattuta per prendere il traguardo dove arriverò con pochissimo vantaggio perché lui sta più dritto sul traguardo eccoci qua eccoci qua ma siamo arrivati e vittoria grandissima vittoria